Bene, qui ti parlo dei, secondo me, dei riff di chitarra che trovo veramente più interessanti. Ti parlo di quella che è sicuramente la mia band preferita, che sono i Black Sabbath, e sicuramente Tony Iommi è il maestro dei riff, in assoluto. E sicuramente i riff più interessanti che lui ha composto sono sicuramente la canzone Black Sabbath, appunto del 70, Nib, Paranoid, Child of the Grave, Iron Man, ascoltati tutti questi brani, Sabbath, Bloody Sabbath, sono tutti i riff in pratica basati sulla scala minore, scala eolica minore, classica, con l'aggiunta della terza, scusa, della quarta aumentata, il famoso intervallo di diavoli in musica che dà quel tocco sinistro ai pezzi dei Black Sabbath. Ricordati che i Black Sabbath suonano in una ottava differente, più bassa, credo che suoni almeno mezzo semitono o due toni. Io direi che addirittura suona, diciamo che se la prima corda è B, diciamo che è accordata in Sol, per fare un esempio. Di solito è accordata in La, la chitarra, lui la tiene in Sol, perché praticamente in Sol tiene un mezzo, un tono sotto. La teneva così bassa per un motivo specifico, perché lui avendo, non avendo le dita, avendo farangi delle dita, gli mancavano, in alcuni popastrelli appunto, gli mancavano, lui ha dovuto studiare questo nuovo sistema appunto, per fare in modo di sopperire a questa che è una mancanza, che effettivamente lui possiede. Dato che aveva dolore quando suonava, la cosa importante per lui proprio è il fatto di capire che abbassando, abbassando di un tono la chitarra, in pratica quello che succedeva, abbassando di un tono la chitarra, in pratica il suono che veniva fuori in un suono molto più cupo, un suono molto più cupo, molto più potente, e questo rendeva veramente le sue composizioni molto più tetre, oscure. Infatti il sound di Black Sabbath è caratteristico quello dark, oscuro. Poi mi viene in mente altri riff, mi viene in mente appunto di Purple, un riff su tutti è Smoke on the Water, che proprio è l'esempio classico. Smoke on the Water proprio è l'esempio classico lampante di quello che sono i riff di chitarra. Poi mi viene in mente Spoonfall dei Cream, mi viene in mente Fire dei Jimi Hendrix, tutti i riff comunque di postura blues, hanno sicuramente al loro interno un valore blues, tutti questi pezzi in qualche modo, tutti questi brani in qualche modo hanno un'influenza che viene da blues e si sente, è notevole l'influenza che ha. Questo è il concetto, ascoltati tutte queste band, questi stili, io direi di fine anni, proprio anni 70, il periodo è quello, fine anni 70, no, anni 60, inizio anni 70, dove proprio la chitarra padroneggiava e si facevano tutti questi riff incredibili di chitarra, questi riff basati proprio sulla chitarra. e le band Vuole Lotta Love, le Zeppelin, sono veramente tutte queste band incredibili, ascoltati perché vengono tutte, sono tutti riff blues, fatti sul, ripeto, la scala eolica minore, naturale, la scala naturale, quella è là, la scala in modo eolico si chiama, con però la giunta di quella che si chiama la Diavolo in musica appunto, che è la quarta aumentata, che è proprio la nota classica della scala blues e loro la usano, la usano tantissimo per dare quel tocco, quello stile, quella sfumatura classica proprio del blues. Ti consiglio di provare, vedere un po' cosa viene fuori, facendo riff simili a loro. Ciao a passare nel video.